ciao a tutti e bentornati sul canale in questo nuovo video andiamo a vedere più da vicino la spiaggia di gallipoli per essere più precisi siamo sulla zona del golfo di gallipoli quindi punta della suina baglia verde la spiaggetta degli innamorati questa è una zona parco quindi parco naturale di punta pizzo e isola di sant'andrea piagge naturalmente non si raggiungono a piedi dalla cittadina di gallipoli ma bisogna raggiungerlo in auto o con navette noi in questa località abbiamo diverse soluzioni per le vacanze quindi case vacanza ville appartamenti dislocati su tutta la zona di gallipoli baglia verde e anche dalla zona della punta della suina anche su lido pizzo abbiamo numerose case vacanza tutte riportate sul nostro sito internet e che vi lascio in descrizione www.costedelsud.it colgo l'occasione per invitarvi a seguirci anche su instagram lasciamo sempre il link in descrizione lasciate un bel pollice in su quindi un mi piace commentate se avete bisogno di informazioni o comunque volete sapere novità sui prossimi video o dove sono alcuni posti riportati nel video sarò felice di rispondervi e di indicarvi e magari inviarvi anche il punto esatto con google maps colgo l'occasione per invitarvi ad iscrivervi al canale attivate tutte le notifiche e magari lasciate un bel like ed io come sempre vi auguro una buona visione ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.